Buongiorno a tutti, Pagelle di Juventus contro Lecce. Siamo riusciti a vincere una partita, ormai era più di un mese che non vincevamo, quindi cerchiamo di entrare nel mood di una vittoria. Al di là di come è arrivata, come dicevo nel video post partita, siccome meritata ma non convincente, entriamo nel mood comunque della vittoria, dei tre punti, di questo mini campionato, come parlava Allegri, in cui partivamo con un handicap nei confronti della Lazio. Cerchiamo di arrivare in fondo, cerchiamo di conquistare questo posto Champions, cerchiamo per quanto riguarda la Serie A, dato che ormai è andata come è andata, di non chiudere in disgrazia e quindi prendiamoci questi tre punti che sicuramente fanno morale e alla fine dell'anno sicuramente messi lì nel mucchio. Saranno importanti anche perché sappiamo bene che la Juventus a fine anno potrebbe subire un'altra stangata, vedremo se ci sarà il patteggiamento, vedremo se ci sarà una penalizzazione, ancora non sappiamo niente. Prendiamoci questi tre punti come evento singolo, singolare, isolato da tutto il resto, portiamoci a casa questo 2-1 che in un momento del genere sicuramente regala un po' di morale a una squadra che forse ormai non vedeva più la possibilità di portare a casa un risultato utile. Vi lascio qui sopra nelle schede anche il video post partita in cui ho parlato nel dettaglio, in cui ho espresso la mia opinione caldo, nel frattempo è passato un po' di tempo, ho cenato e quindi sono pronto per parlarvi anche delle pagelle che vi farò uscire la mattina presto, dato che alle 7 le persone fanno colazione, magari qualcuno alle 7 sta finendo un turno o è già pronto a lavorare, ma tanti in realtà, stanno pucciando ancora il biscotto all'interno del caffè latte. E quindi voto 6 a Massimiliano Allegri che secondo me nella partita di ieri non sbaglia praticamente niente, la cosa che dà secondo me fastidio al tifoso della Juventus, almeno personalmente vi dico questo, è questa costante, e cioè arrivare comunque al termine delle partite in cui non hai la certezza di portare a casa il risultato oppure no. Con Lecce in casa tua, una squadra che comunque sta faticando, non che la Juventus stia facendo un campionato d'eccezione perché non è assolutamente così, però una squadra sicuramente in difficoltà, oppure il Lecce arrivare fino al novantesimo con il dubbio di la vinco, oppure mi fanno gol su questo calcio d'angolo, oppure può succedere qualcosa. Il non chiudere le partite sicuramente è una costante dell'eventus di quest'anno, è segno che l'eventus sta facendo molta 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 fatica e questa secondo me è una delle cose che Allegri dovrebbe migliorare, ma non dentro le partite perché non è lì che migliori questa cosa, ma bensì negli allenamenti che poi vengono applicati alle partite. Turnover, c'è stato un turnover vero e proprio, sono stati dei giocatori che era un po' che non vedevamo, come lo stesso Paredes che poi andremo ad analizzare nella scheda apposita, ci sono altri giocatori che forse dovrebbero riposare, tipo Kostic che ho visto cottissimo anche alla fine, proprio era lì che sulle ginocchia cercava di respirare, quindi magari qualche minuto hiding si poteva far fare? Sì, probabilmente sì, però nel complesso credo che sia stata una vittoria, ripeto, meritata, non convincente, ma una vittoria che la Juventus si porta a casa, così come Allegri si porta a casa il voto 6 in pagella. Voto 6 a mezzo a Scesni, che comunque ha dovuto rispondere presente in un paio di occasioni sul calcio di rigore, intuisce comunque la direzione del tiro dell'attaccante del Lecce, non può fare niente perché comunque tira molto forte, è al secondo calcio di rigore consecutivo, quindi gli ultimi due gol subiti dalla Juventus nascono entrambi su calcio di rigore, più che sul portiere io andrei a interrogarmi sulla difesa e sul fatto che comunque la difesa viene stressata e messa costantemente sotto pressione, e qui torniamo al discorso di prima, perché non chiediamo le gare e quindi poi gli avversari possono per forza di cose iniziare a ragionare, a sognare magari anche qualche punto, uno per il pareggio o tre per la vittoria, proprio perché la Juve non è in grado di chiudere. Ecco, allora vi dico la verità, i difensori centrali della Juventus non mi sono piaciuti tanto. Dossè a Bonucci perché quell'intervento meraviglioso che fa a metà o comunque sul finale del secondo tempo è determinante, è impattante, è un intervento che ti fa alzare di mezzo voto la valutazione. Per quanto mi riguarda la valutazione di Bonucci era insufficiente, però quella giocata dentro la partita è talmente fondamentale che va ad alzare il voto. Non mi sono sentito per niente sicuro con Bonucci al centro della difesa, tante volte vedevamo gli attaccanti del Lecce scapparci un po' via e quando c'è da ragionare sulla profondità, Bonucci non è proprio il migliore. Sul finale di carriera di Chiellini gli vedevo fare poche partite, ma quelle partite che mi faceva comunque mi dava l'impressione, la sensazione di essere un calciatore ancora ad alti livelli. Ne faceva poche, ma quelle poche che giocava me le giocava tutte ad alti livelli. Con Bonucci non ho la stessa impressione, secondo me va anche un po' a livellare e a raccontarci quello che è stato appunto il livello dei due difensori in carriera, comunque quello che hanno dimostrato. Su Bonucci non mi sento molto sicuro, ma ripeto, quell'intervento, forse proprio perché aveva il turbante alla Chiellini, va ad innalzare il voto per il capitano della Juventus. Voto 5 e mezzo a Bremer, lo sto vedendo ancora un po' sfarfallino, è ovvio che poi quando gioca come braccetto di destra non mi convince al 100%, sicuramente Bremer sta avendo un momento di flessione, secondo me, qui, nella testa. E dalla testa poi diventa anche un problema fisico, però secondo me Bremer in questo momento non è lucido proprio a livello di ragionamento, quindi forse anche qui Bremer avrebbe bisogno di respirare un attimino, il problema è che non c'è tempo per respirare, le prossime due partite sono indispensabili per la Juventus, sono molto molto importanti, quindi Bremer dovrà semplicemente fare un respirone. Un respirone, magari prendersi una camomilla prima della partita e pensare che sta giocando una volta ogni tre giorni perché è arrivato per merito a indossare la maglia della Juventus. Quindi ha bisogno di ritrovare se stesso, secondo me, Bremer. Poi ovviamente anche magari il centro della difesa dove lui si trova assolutamente più a suo agio. Voto 5 a Danilo, un altro rigore che nasce proprio da una disattenzione di Danilo, io Danilo lo sto vedendo spremuto completamente, va un po' al discorso di Bremer. Se Bremer lo vedo un po' spento qua, Danilo lo vedo invece spento nelle gambe. Le gambe non seguono più la testa proprio perché Danilo ha giocato troppi minuti. E poi vale lo stesso discorso davvero per Bremer. Non c'è tempo per riposarsi, quindi su Danilo magari un po' di scarico domani e magari una giornata di allenamento in meno per averlo a pieno ritmo poi per la partita con l'Atalanta di domenica che sarà, non dico un vero e proprio scontro dentro o fuori per la Champions perché non è vero, però a così poche giornate dal termine una sconfitta sarebbe forse decisiva. Speriamo di no e speriamo che Danilo possa riapprocciare al meglio la partita con l'Atalanta dopo il gol dell'anno scorso a Bergamo, lo ricorderete che è stato molto molto importante per la rincorsa della Juventus poi entrare effettivamente all'interno delle prime quattro posizioni. Non è cambiato tanto dall'anno scorso, siamo ancora bene o male in quella zona lì. senza voto a De Sciglio perché per tante volte durante la telecronaca continuavo a dire cavolo, ma è vero, sta giocando a De Sciglio perché da quella parte lì Banda era un cliente scomodo, De Sciglio semplicemente lo teneva a bada senza cercare di arrivare in particolar modo sul fondo per cercare un affondo decisivo, quindi era più concentrato sul difendere perché Banda davvero ha fatto venire poi mal di testa anche a Quadrado, lo vedremo. E poi con l'infortunio. E quindi un grosso, grossissimo, in bocca al lupo a De Sciglio che a 30 anni, anzi a 31 anni perché siamo coetane, siamo entrambi, del 92 si ritroverà a dover fare i conti con un infortunio per niente simpatico. E quel ginocchio lì dovrà tornare il meglio possibile, al suo meglio possibile. Non so se riuscirà a tornare ai suoi livelli precedenti, quindi un grosso, grossissimo, in bocca al lupo a Mattia che adesso dovrà cercare di concentrarsi su se stesso per fare un percorso riabilitativo importante. Quindi lo perdiamo da quel termine della stagione, probabilmente lo perderemo per una gran parte della prossima stagione. La Juventus con De Sciglio infortunato, un infortunio grave e con Quadrado in scadenza, dovrà per forza di cose iniziare a monitorare il mercato in quella porzione di campo. Punto 6, mezzo a Fagioli, che a differenza magari della partita con Bologna dove aveva avuto quell'occasione clamorosa, si mette un po' più al servizio dei compagni e quando gioca con uno come Miretti che è abile a cercare l'inserimento, allora Fagioli che è abile invece a servire il compagno si trova magari un po' più a nostre. C'è stato un errore nel secondo tempo dove poi Bremer è arrivato ad essere ammunito proprio per la palla persa da Fagioli ma nel complesso mi è sembrata una partita importante da parte di Cono che comunque aveva trovato anche l'assist. Peccato per quel... Non lo so, se Miretti avesse avuto un 41,5 piuttosto che un 42,5 magari a Fagioli avevamo referto un assist in più e Miretti avevamo referto un gol in più e magari non dovevamo soffrire come i cani nel secondo tempo. Però è andata così Fagioli secondo me ha fatto comunque una buona partita e quindi si becca 6,5. Voto 7 a Paredes Allora vi spiego anche perché do 7 a Paredes e vi dico già 7 se lo piglia pure Vlaovic vi faccio le pagelle di Vlaovic e Paredes insieme. Erano due giocatori che venivano da un periodo negativo perché sia Vlaovic che Paredes per motivazioni differenti venivano da un periodo negativo che avevano anche perso se vogliamo la fiducia all'allenatore perché Paredes quando è arrivato era un titolarissimo lo ricorderete appena arrivato anche magari in una condizione fisica non eccellente le ha giocate praticamente tutte e poi ha perso il posto al titolare a descapito di Locatelli. C'era stata una sorta di lite tra Paredes e Allegri credo il giorno di Pasqua Pasquetta non mi ricordo quando è stato e quindi sembrava completamente bocciato uscito dal progetto tecnico della Juventus e Vlaovic era tre partite che invece non giocava proprio per necessità quindi per scelta di Allegri. Allegri oggi li ripropone dal primo minuto entrambi quasi ad aver evidenziato questa volontà di tenerli fuori però ora c'era bisogno di tutti e due. Io credo che Paredes sia molto più vicino a questo che abbiamo visto oggi piuttosto che a quello che abbiamo visto durante tutta la stagione quindi un calciatore che ha voglia un calciatore che ha qualità un calciatore che può risolverti la partita con una giocata. Do a sette a Paredes e sette a Vlaovic per un'unica motivazione. La Juventus trova questi due gol nel primo tempo e sono le uniche due volte in cui la Juventus tira effettivamente in porta. Queste due giocate singole di giocatori che hanno qualità che hanno attraversato difficoltà ma che hanno qualità ti portano poi alla vittoria finale. Sono quei due gol che arrivano a farti dire più tre sulla classifica. Quindi sono talmente importanti quelle due giocate quella di Paredes da piazzato e quella di Vlaovic da girata da portarsi a casa al sette in pagella perché ai fini della partita sono state talmente determinanti che non c'è una valutazione differente. Però su Paredes e Vlaovic ci sono motivazioni differenti sul mood che sto respirando e che sto vivendo. Paredes secondo me avrebbe potuto dare tantissimo a questa Juventus e lui stesso si è messo un po' di traverso in questa situazione. Su Vlaovic invece il discorso è più complicato perché Vlaovic deve sicuramente metterci più del suo ma è stato fortemente penalizzato dal gioco offensivo della Juventus da quello che poi effettivamente arriva come pallone giocabile negli ultimi metri dell'attacco della Juve. Quindi se da una parte ci sono delle grosse responsabilità di Paredes dall'altra vedo anche delle grandi responsabilità di Allegri. Quindi sono due motivazioni differenti. Sono felice che entrambi i giocatori siano riusciti a tornare al gol perché un gol a volte cazzo è quello che ti serve. Quello che ti serve è per sbloccarti qua per sbloccare le gambe perché se sblocchi qua poi partono anche le gambe anche quando magari inizia ad averne poco nelle gambe però se la testa guida allora la testa ti fa andare. Mancano poche partite da qui alla fine della stagione. Sei di Serie A due di Europa League eventualmente una alla finale stiamo parlando di otto nove partite. Giù di lì avere dei giocatori che iniziano a sbloccarsi qua diventa determinante. Quindi voto sette a Paredes che era diffidato salterò l'Atalanta è uscito ha chiesto il cambio perché probabilmente era da un po' che non giocava però è importante avere anche un giocatore come Paredes nelle rotazioni che ha fatto una stagione lontanissima da quelle che potevano essere le sue potenzialità ma ha la possibilità adesso di chiudere in crescendo perché questo gol che arriva in un momento chiave della stagione è un gol importantissimo per lui perché la sblocca sblocca proprio la Juventus come il gol sblocca il calciatore la vittoria magari sblocca la squadra questo gol è importante e secondo me è un gol importante al di là del semplice 2-1 sul Lecce voto 6 a Miretti qua qualcuno potrebbe non essere d'accordo con me però il gol che sbaglia Miretti nel secondo tempo è talmente impattante che va ad abbassare la valutazione complessiva di Miretti insieme a alcuni errori banali nell'appoggio nel passaggio che gli ho visto fare prima del primo gol che gli viene annullato Miretti poteva arrivare a segnare il suo primo gol con la maglia della Juventus Miretti la prima volta viene frenato dalla punta del piede troppo avanti la seconda volta viene frenato da un suo singolo errore dopo un bellissimo taglio perché Miretti con la testa segue il pallone sa che arriva lì poi sbaglia l'esecuzione però qui Miretti era stato più attento più sveglio di tanti altri giocatori sia della Juventus che del Lecce perché se no non arrivi a creare quell'occasione lì quindi 6 è un 6 che poteva essere qualcosa di più perché ha sbagliato le banalità dagli appoggi dai fraseggi da quel fuori gioco millimetrico a quel gol talmente facile da fare che sembra quasi un incubo non aver fatto quindi questo 6 poteva essere decisamente di più e ho deciso di abbassarlo proprio perché sono stati troppi i microerrori che poi fanno delle macrovalutazioni in entro della partita voto 6 a Kostic non ancora il mio Kostic si prende 6 perché poi Vlaovic va a fare quel gol lì posso dirvi la verità è meraviglioso è meraviglioso che Vlaovic lo vada a sbloccare Kostic sono talmente amici dentro e fuori dal campo dentro e fuori dalla Juve con anche la Serbia la nazionale quindi questo rapporto umano che c'è anche tra i due che è meraviglioso sapere che Vlaovic si sblocca perché Kostic mette quella palla un Kostic o un Vlaovic tutti e due in difficoltà anche qua per motivazioni differenti Kostic perché le sta giocando praticamente tutte è bello che il gol di Vlaovic meraviglioso arrivi su un cross di Kostic magari anche un cross innocuo insignificante come volete però poi Vlaovic tira fuori quella roba lì perché sa che dalla sinistra Filippo mette quelle palle lì bellissimo proprio io che sono anche un po' un romantico del calcio queste cose mi fanno impazzire voto 5 di Maria voglio essere severo voglio essere severo e soprattutto onesto con voi credo che Di Maria abbia completamente cannato all'approccio ha fatto una giocata nel primo tempo dove praticamente gli ha saltati tutti poi è arrivato sul fondo e ha messo un brutto pallone ma io l'ho visto anche un po' staccato scollegato dalla Juve in determinate cose prende un fallo e cercando di fare una sorta di simulazione nel primo tempo non mi è piaciuto io in questo momento avverto un Di Maria molto distante dalla Juve attenzione guardate bene non parlo del contratto di Maria che in scadenza e al 30 giugno scadrà quindi praticamente tra due mesi Di Maria non sarà più un calciatore della Juve no qui e come prima vi dicevo la mente è importante perché comanda i piedi la mente è importante perché comanda anche gli atteggiamenti non so se a Bologna Di Maria si è tirato indietro perché non doveva partire territorale non aveva voglia io so per certo che in casa con Lecce Di Maria deve farmi la differenza perché è veramente l'unico l'unico giocatore in grado di cambiarmi il volto della Juventus negli ultimi metri e io ho visto la differenza tra un Di Maria che ne ha voglia che è stato quello subito dopo il mondiale e un Di Maria che non ne ha voglia che è stato quello prima del mondiale e quello che stiamo vedendo adesso non è normale che un calciatore abbia dei picchi così elevati come abbiamo visto tra Napoli e le partite successive la tripletta in Europa League è un giocatore che banalmente scende in campo perché deve scendere in campo quindi dato che si parla tanto del rinno di Di Maria se lo fa con degli stimoli giusti perfetto se lo deve far tanto per fare io da amante di Di Maria da tifoso che si è esaltato da vedergli fare dal vivo la tripletta di assist nell'unica partita quest'anno sono riuscito a vedere l'unica partita di Champions League che abbiamo vinto era lo stadio gli ho visto fare quella prestazione tripletta di assist io sono profondamente innamorato del tipo di calcio che esprime Di Maria ma se deve rimanere per farmi un favore l'ora che vada a concludere la carriera a Rosario dove sappiamo per certo lui ci vuole andare quindi che si prenda su e vada via se deve rimanere per farmi un favore guarda no grazie e lo dico dal cuore da tifoso innamorato di Di Maria e del modo di giocare di Di Maria perché so per certo che c'è un Di Maria che scende in campo con la voglia e un Di Maria che scende in campo senza voglia e ieri sera con Lecce l'ho visto senza voglia ed è giusto sottolinearlo punto 7 a Vlaovic ne abbiamo già parlato nel discorso legato a Paredes io dico semplicemente una cosa e voglio che questa cosa rimanga proprio scolpita nella roccia Dujan Vlaovic è un calciatore forte è uno dei calciatori più forti della Serie A e vado avanti non sto nemmeno a stare sopra a spiegare il perché ho detto questa cosa Dujan Vlaovic è uno dei calciatori più forti della Serie A 5 e mezzo Quadrado entrato ha sofferto banda ci sono state delle scorribande un po' scorribande scusate gioco di parole molto brutto un po' così non l'ho visto proprio focalizzato 100% secondo me anche perché comunque partiva la panchina pensava di non giocare era il giorno di riposo per Quadrado quindi gioca di scia con la volta si rompe il ciglio deve entrare sul lato destro siamo particolarmente deboli ora vedremo se l'anno verrà completato con la convocazione banalmente di Barbieri che andrà a prendersi un po' il ruolo di riserva immagino di sì però Quadrado non è ancora al 100% 5 e mezzo a Chiesa che non è entrato benissimo si è giocato male due o tre palle che sono passate dai suoi piedi però ripeto come dicevo anche nel video post partita secondo me queste situazioni andrebbero provate un po' di più in allenamento perché poi è facile dire eh sì Chiesa ho sbagliato questo questo o quell'altro però in quelle situazioni ti ritrovi per caso o comunque non sono state provate qualsiasi giocatore poi fa fatica a ritrovarsi all'interno di pattern che sono inediti o casuali punto 6 e mezzo a Pogba oh finalmente oh 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 per la prima volta ho avuto l'impressione che Paul Pogba fosse tornato sul campo da calcio perché tutte le altre volte che era entrato lo vedevo calmo tranquillo c'è stata un'occasione che cavolo l'ho detestato nel senso buono ovviamente perché poteva tirare non l'ha fatto sono piccoli passi piccoli piccolissimi quasi inesistenti guardate quanto sto ridendo quanto il sorriso si crea solo nel parlare di Pogba perché Pogba sta tornando Pogba è tornato la Juve ormai da un anno ma Pogba sta tornando davvero adesso perché non era ancora in grado di fare le cose che faceva Pogba adesso gli ho visto fare due o tre cose in cui si accelerava l'azione mette in porta Vlaovic fa un tocco fa una finta si prende la punizione dal limite giocatore determinante ai due chilometri orari sta ritrovando fiducia in se stesso vi dico Pogba ritroverà definitivamente fiducia in se stesso quando tirerà in porta lavato tipo all'esordio col toro quando è tornato ha tirato si è preso una punizione ha ancora paura a tirare non si fida ancora di se stesso quando Pogba tirerà in porta allora potremmo dire bene è tornato adesso gli manca solo la condizione va ancora lento molto lento andava due tre quattro cinque volte più veloce quando stava bene e comunque anche a rallentatore fa la differenza perché questo giocatore è molto molto forte ci sei mancato Paul non sei ancora tornato ma sicuramente sono piccoli piccolissimi passi in avanti anche pensando la prossima stagione senza voto Locatelli che entra perché Paredes chiede il cambio senza voto Gatti che entra perché Bremer immagino è ammonito spero nessun problema per Bremer e questi ragazzi erano le mie pagelle per Juventus-Lecce Juventus 2 Lecce 1 fatemi sapere la vostra questione nei commenti fatemi sapere se siete d'accordo con quello che vi ho detto e noi ci vediamo nel pomeriggio con un nuovo video ciao ciao